Un autentico nubifragio ha imperversato per circa un'ora nel primo pomeriggio di oggi su Bari. In pochi istanti è venuta giù un'enorme quantità d'acqua che ha trasformato le strade in fiumi, accompagnata da forti raffiche di vento, grandine, tuoni e lampi. Nel capoluogo sono caduti quasi 26 mm di pioggia, accompagnati da numerosi fulmini, caduti anche chicchi di grandine soprattutto nei quartieri a nord-ovest. La città è stata colpita da un downburst, ossia forti raffiche di vento lineari in uscita dal temporale, tanto che nel quartiere di Torre Amare sono state registrate raffiche fino a 100 km orari. In zona policlinico un albero è caduto su un'auto parcheggiata, danneggiandola ma senza causare danni a persone, mentre all'interno del nosocomio la pioggia e il vento hanno causato la caduta di alcune insegne. Un grosso ramo di un albero si è inoltre spezzato ed è caduto sulle auto nei pressi del Parco 2 Giugno. Il sottovia Duca degli Abruzzi in pieno centro e il sottopasso ferroviario di via Bruno Buozzi sono lagati e sono stati chiusi al transito. La polizia municipale ha segnalato criticità al transito anche per quanto riguarda gli altri sottovia cittadini ed ha consigliato di scegliere percorsi alternativi. Oltre al capoluogo, colpite diverse zone della provincia, a Mola di Bari, in piazza 20 Settembre, la forte pioggia ed il vento hanno causato il crollo delle luminarie installate per la festa patronale in onore di Maria Santissima Dolorata, in programma da domani fino al 9 settembre. Forte temporale si è registrato anche a Toritto e ad Altamura. Grazie per la visione!